La famiglia intende chiedere la tutela nel nome del signor Graziano Giomarelli, che è lo zio, perché la bambina ha qui sul posto una comunità familiare che conosce, che gli vuole bene, è inserita in questo ambiente, c'è stata per lunghissimo tempo, vuole bene alla nonna, conosce la realtà locale, è inserita in contrada, è una città che offre una tutela e una solidarietà che possono facilitare il regolare sviluppo della piccola mente. Sì, stamani è stato depositato al giudice tutelare di Siena una richiesta in questo senso da parte dello zio Graziano Giomarelli e attendiamo l'esito della stessa, la mia collega, avvocato Valente, è in tribunale apposta per sveltire questa pratica burocratica. La piccola Amelia apparentemente sta bene, devo dire che la famiglia Giomarelli, che è una famiglia per bene, estremamente pacata, tranquilla, persone molto serie, hanno fatto scudo, e questo è il senso per cui la conferenza stampa la faccio io, per tutelare al massimo la sensibilità della bambina che è stata ovviamente oltremodo provata dagli eventi che si sono svolti alla sua casa. La meccanica di questo dolorosissimo evento è quella che già è stata riportata, cioè il marito, il padre, ha puntato da distanza ravvicinata la pistola carica verso la testa della moglie a seguito di una discussione familiare e ha esploso un colpo che ha attinto sia la mamma che il bambino che veniva tenuto, diciamo, sollevato abbastanza alto le due teste, diciamo, presumibilmente erano molto vicine. Probabilmente la mamma ha anche fatto una rotazione quando si è vista puntare la pistola quasi a proteggere il figlio. Il colpo ha trapassato la madre, ha ucciso il figlio e si è posizionato, ha finito la sua corsa nel muro retrostante le due vittime.